Inizia nel migliore dei modi la stagione del Sant'Omero-Palmenze, decisamente meno bene invece quella della Virtus Teramo, indicata come una delle favorite del Girone A del campionato di promozione 2017-2018. È uno dei big match di giornata e i tre punti se li prende la squadra di Riccardo Pennesi. Al comunale di Sant'Omero arbitra Manuel Franchi di Teramo, partita leggermente disturbata dal vento e che inizia decisamente a ritmi blandi. Al tredicesimo Stefano Bizzarri trova l'inserimento decisivo in aria, contatto con Micolucci per Franchi e calcio di rigore. Dal dischetto va Enzo De Rosa che spiazza uno dei due ex della gara, Cristian Di Giuseppe. È blanda la reazione della Virtus che non riesce a imbastire buone palle giocabili per gli attaccanti bianco-rossi. La reazione è tutta al trentesimo, tiro al volo spettacolare di Di Giacinto, alto sulla traversa. Clamorosa palla gol per il 2-0 Sant'Omero, Cimiconi è tutto solo in aria. Non tira però e la mancano sia De Rosa che Costantini, primo tempo che si chiude sull'1-0. Prova a partire forte la Virtus Teramo nella ripresa, ci prova Pigliacelli di testa e attento, grande e vantaggio conservato dal Sant'Omero. Si spegne però subito l'ardore della squadra allenata da Patrick Moro, le azioni continuano a essere confusionarie e non riescono a mettere in moto gli attaccanti. Al 27esimo ancora da centrocampo, ancora di Giacinto, senza problemi l'intervento dell'estremo difensore bianco-azzurro. Partita in cassaforte per il Sant'Omero al trentesimo, protagonista ancora Enzo De Rosa, dribbling secco sull'avversario diretto, entra in aria, è netto questa volta il fallo su di lui e arriva il secondo calcio di rigore della giornata. È ancora De Rosa sul dischetto, intuisce questa volta Di Giuseppe ma il gol del 2-0 è praticamente inevitabile. L'ultimo quarto d'ora non offre grandi emozioni, risultato in cassaforte per il Sant'Omero che controlla agevolmente anche gli ultimi minuti di recupero. Finisce dunque 2-0 in favore del Sant'Omero, tutto da rivedere invece, almeno per il momento, nella Virtus Teramo.